Il turno aumenta la dismisura, i voti per un concorrente in particolare, anzi per due, ecco che lampeggia, spintarelle, affascinanti, prego! E andiamo a vedere allora questo ulteriore verdetto, continua pian piano a sgredolarsi il nucleo dei dieci concorrenti che hanno aperto questo terzo appuntamento singolarmente di mercoledì di Peato Dove Donne, vi ricordo la prossima settimana torneremo di giovedì, ma intanto c'è da seguire attentamente questa eliminazione, ognuno di loro presuppone di aver dato il meglio di se stesso, è andata allora per Seu Fernandez Cuba, che è nel suo rappresentante ballerino di Tecno Merengue, è la volta di Sebastiano, Sebastiano Rizzo, sì, anche Bolzano tiene il 26enne, Sebastiano in corsa, e allora o Raffaele o Claudio, o la tromba o se la gemella di Ramazzotti è andata in gol, finisce in acqua purtroppo Raffaele Corvano, e allora per Claudio Croccolino un sorriso che si stampa tutto l'olto come il bacio della nostra spintarella, bene Claudio, bene Sebastiano, bene Seu, mi dispiace Raffaele, avevi cantato anche molto bene. Allora saluto tutti quelli che mi conoscono e grazie ragazzi siete stupendi. Benissimo, grazie Raffaele, e loro sono i primi tre che hanno superato questa prova, adesso altre prove.